Alessandro Bonafini, dopo la bella vittoria ottenuta domenica scorsa in casa contro la Libertas è chiaro che il Gela non può più fallire l'obiettivo di conquistare altri punti per approdare in Serie D però domani c'è un impegno importante sulla carta, è un derby, arriva l'Atletico Campofranco però se il Gela gioca come sa giocare non ce n'è per nessuno Sì, intanto noi siamo più che motivati perché in settimana abbiamo avuto la triste notizia alla perdita di Carmelo Tuccio, il fratello del Presidente che era vicino a noi, vicino alla società quindi noi siamo pieni di motivazione per cercare di dedicare questa vittoria sia al Presidente che soprattutto a una persona speciale come lo era Carmelo che ci teneva tanto al Gela Calcio Voi intanto cercherete domani di vincere per dedicare la vittoria a Carmelo Tuccio ma poi cercherete soprattutto di agguantare la Serie D perché proprio Carmelo Tuccio aveva riferito agli amici che il suo obiettivo, l'obiettivo della squadra era quello di agguantare e quello di agguantare la Serie D Già noi come squadra l'obiettivo nostro è quello di cercare di regalare una gioia alla città per quello che sta attraversando a maggior ragione adesso abbiamo ancora un altro motivo in più per regalare anche questa Serie D a Carmelo che ci teneva veramente tanto Per domani non sarà facile, non si tratta della libertà sull'ultima classifica si tratta di una squadra tosta che vi ha dato fino a torcere anche all'andata e che giocherà veramente una partita della vita contro il Gela attuale capolista Sicuramente chi gioca contro di noi darà sempre l'anima pur di batterci sicuramente troveremo una squadra guerrita in settimana ha perso il torno di recupero quindi si trova vicinissimo alla zona play-out e quindi farà di tutto per cercare di portarsi a casa dei punti noi affronteremo la partita come del resto affrontiamo tutte le altre noi sappiamo che da qua alla fine ci sono cinque finali iniziando da domani per noi è una finalissima Forse Schadina, Gela Campofranco? Io gioco sempre l'uno perché adesso dipende solo da noi e se noi entriamo determinati come stiamo facendo nell'ultimo periodo credo che ci sarà poco da commentare